Buongiorno, buongiorno. Allora, sono le 5 della mattina e non riesco a dormire e oggi compio 27 anni, sto dittando vecchio. E visto che non riesco a dormire, ho pensato di fare qualche storia qua su Instagram per farvi sapere... Non so, anche solo per dirvi grazie, per farvi sapere che mi sento veramente fortunato oggi e vi elencherò le cose per cui mi sento fortunato iniziando da la mia famiglia, ho una famiglia fantastica, ho due genitori che mi hanno cresciuto con tanto amore e tanto supporto e so che non tutti abbiamo questa fortuna, quindi penso che il primo ringraziamento va dai genitori perché sono loro che mi hanno messo, mi hanno creato, mi hanno messo in vita 27 anni fa. Quindi grazie mamma, grazie papà, grazie anche a mio fratello perché siamo diversi, molti non sanno che ho un fratello e quei pochi che lo conoscono sanno che siamo molto diversi ma è una persona importante nella mia vita e anche se delle volte sono un fratello del cazzo nel senso che potrei farmi sentire di più alla fine ci penso e mi rendo conto che gli voglio bene e penso che quest'anno tra i miei buoni propositi per i 27 anni sia quello di alimentare il nostro rapporto e cercare di essere un fratello migliore delle volte sono abbastanza scontroso con lui e poi l'altro ringraziamento va sicuramente ai miei amici io ho tanti amici a cui voglio un mondo di bene e che mi vogliono bene, mi supportano, credono in me mi sopportano perché delle volte sono insopportabile e niente, gli amici sono delle persone care sicuramente ho sbagliato tante volte in vita mia, tanti amici li ho persi per errori miei, per errori loro ma di tutte le persone che ho incontrato nel mio percorso molte sono rimaste, altre se ne sono andate non sono perfetto però voglio dirvi che sono riconoscente per tutti quelli che ancora sono al mio fianco e per tutti quelli che continueranno a seguirmi con questo percorso perché quello che faccio lo faccio anche per loro quello che provo a fare e spero di essere un buon amico, con i miei difetti spero di essere un buon amico e poi un altro ringraziamento va a voi, che mi supportate, mi sopportate anche voi e che credete, che avete creduto in me e in fede e nella nostra musica e che credete in quello che faccio, nei miei sogni, mi seguite, mi mandate i messaggi ma ragazzi grazie perché vi devo tantissimo, questa vita è speciale anche grazie a voi e soprattutto grazie a voi che avete reso questo possibile ho realizzato diversi sogni grazie a voi, ne ho ancora tanti nel cassetto quindi preparatevi perché li realizzeremo insieme e niente, questo è quanto spero di non avervi annoiato grazie mille grazie 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 baby, i love you so much grazie 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 grazie